Fino al 15 ottobre nella serie della Biblioteca della Regione è visibile la mostra Eccellenze del Piemonte, vecchie pubblicità di carte e di latta 1900-1960. Nei primi tre fine settimana di ottobre a Paesana, provincia di Cuneo, presso la Sala Polivalente, sono esposte le mostre La Donna Immaginata, l'immagine della Donna e le Eccellenze Artigiane negli scatti di Lella Beretta, promosse dal Consiglio regionale. Dal 10 al 12 ottobre, presso l'ex chiesa della confraternita dei Battuti Bianchi in Piazza Balbo a Castagnola e delle Lanze, in provincia di Assi, viene esposta la mostra fotografica itinerante Carabinieri, due secoli d'Italia, 1814-2014, realizzata da Lanza in collaborazione con il Consiglio e la Giunta regionale che ripercorre la storia dell'arma e in parallelo quella dell'Italia. Prosegue il suo cammino anche la mostra itinerante Piazze del Piemonte, architettura urbanistica e eventi quotidianità. Dal 12 al 19 ottobre la rassegna, 250 foto realizzate in 57 piazze di 29 comuni del Piemonte, farà tappa a Novara presso l'Istituto Musicale di Brera in Viale Verdi 2.